Benvenuti alla quinta parte di Pokémon Diamante Dopo aver battuto questo essere Vi consiglio di allenarvi i Pokémon Ma noi non lo faremo perché Questa fa una allenatrice Battila No perché mi scoccio Falla Va bene Per sfizio battiamola Non è un'allenatrice Ehm, se vuoi dirlo Allora, oh, ci starà poco Visto che qui c'è un allenatore Potremmo fare pure quella scorciatoia qua Dell'erba e poi Ma per sfizio andiamo ad allenatore No per sfizio perché si deve fare E' meglio Mi sono ricordato che il nostro Starly è morto Dopo ciò che è il futuro Ma serio? Due Pokémon Ehm, due contro uno Ehm, undici contratti Che può, anzi Precisamente, dodici Quasi Vabbè, capirai Ma battiamo No, ho capito No, no Mi da fuso, l'ho chito Che dubbi La fraccetta che vola Ma azione Anzi una E chiudo tutto Azione Azione No, non ci pensi Non ci pensi All'oba All'oba, 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 all'oba All'oba, all'oba, all'oba All'oba, all'oba, all'oba L'ho fatto apposta Allora, c'è un uva a burlo Deve lo sapicare Zubat Troppo bello Pare che non c'è ne giocato a questo gioco Troppo bello, Zubat A me Mi sta Maru Stavo dicendo, questa è quella nostra che schifo di più Di Zubat Che pure è super efficace Vuol dire che Eh, che si mette pure il PS al Pokémon Vabbè, noi siamo a zio e ne lo sfondiamo Ecco Ma Zubat non sta proprio a foto Lo schifo Tu Ha chiuso sanguisug Eh, fa capire, pure Golbat No, che schifo, Golbat con sanguisug Che è una mossa scarsa E come si chiama? No, pure Golbat è bello E quello... Sì, Golbat è decisamente più bello che Zubat Almeno... Oh, però Zubat non tiene gli occhi e Golbat si Ma cam... Che cambiamento Ah, ma Zubat tiene le gambe più lunghe Oh, che bolla abbiamo trovato Ma cam... Le abbiamo qua... Una cinque Ma Zubat... Ma Zubat... E come vai? A cuoraggi Stato Ha... 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 Giubilopoli Giubilopoli Giubbino Ha... 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 molto diverso squalid oh ma allora è sera si si e ce ne stanno di buone donne in mezzo alla strada solo a quarentero oh mio buono buono quarentero ok solo a quarentero allora ehi tu per quarentero me lo vuoi fare io a quarentero ti va bene tutta la serata no occhietta un'ora basta ciao grazie alla prossima che mi guardi tu vai giù vai giù io sono un pedofilo io sono un pedofilo la povera bambina ok sali sopra time out scusate per pokemon allora starli davvero 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 si continuare le moltiplicazioni voglio continuare il numero del diavolo ciao vattene 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 tre quattro vi ricordiamo che nella coca cola c'è un messaggio subliminale che è veramente lo so allora scriveto uno uno spiacente nel combattimento non si può fare però parlare una cosa veloce capito ma lascia me lascia me lascia oddio crei che tutto livello 4 lo scopo è tutto 7 e penso allora e allora ma anche io ma mi piace l'evoluzione di questo qua a me no crei che tutto no crei che tutto io lo odio ma anche io è uno scarafaggio ma è insetto scarafaggio insetto no pazienza il quale se volete appena sbloccarete il quartello potete togliergli asco i colmoni ti ricordi quella farfalla? ehm schiettavo una schiettavo una farfalla uccidavo una farfalla con il quartello l'aprimmo e ci toglieravamo i colmoni e bisogna dare di faccia il storie è morto no camonazzo perchè attacco pazienza è fortissima e però se lui attacca no perchè lui non tiene attaccazione infatti che poi è morto penso che non si sta in listare di livello è all'audance fuori olè avocci 112 dollari allora moltiplicato uno 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 uguale uno 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 arriviamo a 糖 E allora! E di nuovo lei! Madonna! Bill è a livello 4! Possessi starli a livello 6! E sta per ruolo! Attacchiamo prima! E poi come sta per scalatrice! Non è intelligente? Sì! Ah no! No, non è morto! Ho fatto due PS! Fermo! Eh, ma usami la! No! No! Allora sei morto! Eh! Tre poche! Eh! 4 e 12! Non può fare niente! La pupa! Scommetto che... Non lo so che scopo! Eh! Eh! Dio! Allora... Vediamo tutto! Allora trovate le esperienze! Se conoscetevi... Aio! Aspetta! Conoscetevi! Chi? Io te! So! L'odio! 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 Ma c'è un altro! No! L'odio! 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 Ma sai per una roba? Ma qual'è la canzone? Ma qual'è la canzone? Aspetta? L'odio! L'odio! La! La! Il. 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 ti capo ci stai friggendo con la vera in testa dovrebbero fare una mossa per stare in cagata in testa la cacca di Doraemon o la cacca di Arale che sarebbe fratelli ciao ciao